...e collabora ai movimenti della Terra e collabora a grandi missioni spaziali. Nell'ultratecnologico polo industriale di Merti c'è uno dei centri produttivi di automobili più importanti d'Italia. La forza di questa regione sta proprio nel sapere sfruttare tutte le risorse che il territorio offre, indipendentemente che siano storiche, culturali, agricole o industriali. La Basilicata è una terra ricca e anche generosa nel sottosuolo, per le numerose sorgenti d'acqua e per i giacimenti di idrocalvini. Infatti, dalle sue fonti parte la fornitura di acqua alle regioni di Merti, e grazie agli oltre 40 pozzi di petrolio, contribuisce in modo cospicuo al fabbisogno energetico del paese. Un'intera regione che ha vissuto nel passato momenti di fame, povertà e malattia, e oggi è proiettata nel futuro, da quello che era a quello che è diventata, guardando sempre avanti. Grazie, grazie a Silvia Salemi, così abbiamo conosciuto ancora meglio Matera e la Basilicata. E ora, altra canzone famosissima, Chi fermerà la musica, interpretata sul fatto dell'Arno, che verrà da Alessandra Macella. Chi fermerà la musica? 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 Chi fermerà la musica?